Rieccoci, ancora una felice Pasquetta a tutti voi, buone lunedì sera 1 aprile, domani sera prima estrazione del mese, 73 a Bari, 55-60, 65-70, 71-72-73. Avevo detto che il 73 poteva arrivare a Milano, ma anche come 37 dato l'ambo 10-37-10-73, ma non solo arrivato il 37 a Milano con il 90 che poi si è vinto l'ambo in quartina. Ma guardate attentamente l'ambata contatta ancora una volta come precisa e cosa combina, 1 e 2. Due colpi solo, arriva il 37 vertibile del 73, vedete che può arrivare anche il vertibile, e il 73 è arrivato sulla ruota gemella Napoli. Ora questo 73, 55-60, 65-70, 71-72-73. Di nuovo, un'altra, conferma su Venezia, ma qua abbiamo due estratti della stessa cadenza, 45-55-10. Quindi tutto si allaccia, è il 90, indovinate un po' dove arriva Torino. Quindi abbiamo Torino, Venezia e Bari, ma ci ritorniamo un attimino. Quindi questa condizione adesso si va a potenziare, perché questa è arrivata, e ha dato addirittura il 37 a Milano e il 73 a Napoli. C'è il 37 di Firenze a Venezia, quindi vedete, arriva ancora il 37 a Venezia, ma arriverà ancora un altro, un altro, 73 a Venezia. Quindi non è che ci va solo il 37 dell'estrazione prima, ovvero quella di venerdì 29 marzo. Quindi Firenze 37, che non è ancora arrivato. E poi non solo, gli arriva pure il 73 a Venezia, quindi c'è sia il 37, sia il 73, sia la somma 10 e sia il 90 che arriva a Venezia. E non solo, ma anche a Torino, perché, andremo a vedere poi dalla classifica integrale nel 90, riporterà di nuovo il Venezia e Bari e Torino. Cagliari c'è già stata, quindi Torino prende forza dall'almbata contata e non solo, c'è di nuovo poi anche il discorso delle somme 90. Comunque, 73 a Venezia e poi c'è una spia a Torino, che porta al 90, quindi ragazzi, probabilmente, probabilmente queste due ruote sono veramente il top, ma anche poi riflessa Bari. Quindi non solo c'è il 37, ci arriva pure il 73, abbiamo pure la somma 10, arrivano tutte e due i 90 a Torino-Venezia, ma cosa vogliamo di più? Quindi, scontrini comunque ne sono arrivate sempre una valanga, del 10, 37, 73. Beh, guardate che se voi sentite bene il video, l'ho detto, Milano-Venezia, quindi non è detto che era solo Venezia come ruota importante, perché il 37, 73 avevo detto che Milano non era ancora arrivato. E comunque, 10, 37, 73, 90 anche Milano, tutte nazionali, comunque non è ancora finita, quindi molti l'hanno giocata lo stesso. E vi faccio vedere anche gli scontrini, che comunque andiamo velocemente avanti, perché voglio farvi vedere il tutto dopo per la condizione. Questi sono ambi i vostri, il 90 di Cagliari, ah, non solo, è arrivato il 90 a Cagliari in quarta posizione, vedete? Milano-Venezia nazionale, qua non ho messo tutte, peccato, perché non si sa mai se vi arriva una quaterra su tutte, eh, sono soldi, eh, quindi un aurino mettetelo sempre. Vedete? Quindi tutte, poi ci sono le ruote, vedete? Milano-Venezia, tutte nazionale. E poi qua sono altri scontrini, poi il 90 di Cagliari, poi ancora, vedete, Milano-Palermo-Venezia nazionale, poi Palermo è la ruota del 90. Comunque, avete fatto tutto quello che vi ho consigliato di fare, è un altro primo colpo di gioco, un altro primo colpo di gioco. Quindi, cosa volete di più? Ogni previsione che do, adesso al primo colpo vi esce o il doppio ambetto, o il tripambetto, o l'ambi quartina. Stiamo andando bene, e quindi, vedete, non c'è bisogno che ve lo dico, perché guardate quanti scontrini stanno arrivando ancora adesso, che è festa. E quindi non ho neanche il tempo di vederli tutti, quindi avete visto, poi il 90, eh, il 90 in posizione a Cagliari. L'8 più più lo dava proprio in quarta posizione, era tutto rosso il quadratino, eh, come vi avevo detto. Quindi, bravissimi, guardate quanti ne stanno arrivando, ne stanno arrivando tantissimi ancora di scontrini. Sono felicissimo, eccolo qua a Cagliari, il 90, quarta posizione. Guardate qua, poi, eh, sempre comunque a Milano, vedete, la ruota di Milano l'avete messa. Vedete? Quindi, 90 a 37, anche come Ambo, vedete? Quindi, ce n'è di tutte le salse, ne stanno arrivando ancora, guardate quanti scontrini stanno arrivando, c'è una vagonata addirittura, gli ambi secchi, gli ambi secchi a parte, e così via. Quindi, condizione, allora, vedete, per il 90 si va a palesare proprio su quello di Milano, andato a Cagliari. Guardate qua. Quello del Genova va a Bari. E quindi, per quello vi dico, attenzione, Bari, e adesso vediamo il riquadro di nuovo. Dell'ultimo schema 90, che non è questo, aspettate un attimino. Sì, è questo qua. Allora, quindi abbiamo, abbiamo il Cagliari, il Cagliari che va proprio a Torino. Quindi abbiamo proprio Torino e Cagliari. Quindi il Cagliari, che va, qua non ho messo le frecce, eh. Il Cagliari che va a Torino e il Milano che va a Cagliari. E quindi abbiamo una doppia forza. Poi c'è la somma, c'è la somma 10, 55, 45, qua non si vede tanto bene. Torino e Venezia, quindi c'è il 10, c'è il 37 e il 73 su Venezia. Attenzione. Quindi, se richiama la somma 90 e c'è il 10 a Torino, quindi già un 10, 90 a Torino, e Venezia c'è già di prassi. Più il 37 e il 73, quegli ambi, su tutte, possono fare la differenza. Mi raccomando, guardate qua. Ah, questo deve ancora adempiarsi su tutte, eh. Quindi, non è detto che adesso quel 10, veramente, possa arrivare su o Venezia o Torino e Bari. Quindi la condizione diventa questa. Guardate qua. Bari, Torino e Venezia. 10, 37, 73, 90. Queste sono le tre ruote di importanza adesso. Bari, Torino e Venezia sono le ruote principali della classifica integrale del 90, che la rivedremo insieme con le sue posizioni. Ma Bari, Torino e Venezia adesso prendono forza. 10, 37, 73 e 90. Torino e Venezia hanno la somma 10. Hanno le due ambate contate, anzi, doppia per Venezia. E poi Torino e Venezia. Dovrebbe uscire il 90 prima Venezia, perché se andiamo a vedere la tabella del 90, che adesso, adesso, dall'ambata contata, non ha dato nessun risvolto negativo. Venezia, guardate, Palermo. Quindi a Genova è già uscito, ma se esce a Venezia in automatico poi dovrebbe andare a Palermo. Speriamo che gira tutto come deve uscire. Quindi, condizione del 90, Bari, Torino e Venezia per questa condizione è ancora apertissima. Iambi secchi sempre 10, 37, 10, 73. Però stavolta, attenzione, attenzione. Bari, Torino e Venezia alla quartina da giocare su queste tre ruote. Quindi, importanza su queste tre ruote. Tutte nazionali, se potete. Iambi secchi, se potete, ancora sì. 10, 37, 10, 73. Vi ho detto tutto. Quindi qui avete lo specifico delle tre ruote più importanti, con la quartina. Perché il 90 può collegare il 10 e uno di questi. Ma specialmente i 10, 90 su queste tre ruote bellissime. E poi l'aggiunta del 73, 37. Perché la previsione in atto, e saremo, mi sembra, guarda un attimino, siamo a quattro colpi, eh? Domani sera. Quindi domani sera siamo a quattro colpi. E la condizione del 10, 37, 10, 73 da soli ancora non si è verificato. Ecco perché vi dico ancora questi ambi su tutte e su quelle ruote lì. Perché può succedere che adesso o Torino, Venezia o Bari può collegare uno di questi ambi. E metteteci il 90. E giocate anche su tutte e questa quartina. E' nazionale, ovvio, perché non si sa mai. Quindi, condizione fortissima. Passiamo all'ultimo quadro, che è quello del 90. Andiamo a vedere un attimino. Quindi, Firenze, Napoli sono andate. Genova, Milano sono andate. Cagliari è andata. L'ultima questa, Bari, Torino. Eccola qua. Bari, Torino e Venezia prendono forza. E comunque sia, lascio la Palermo perché non si sa mai. In teoria, se esce a Venezia, poi Palermo. Comunque, Bari, Torino e Venezia adesso prendono più importanza. Specialmente la Torino e Venezia col 10, 90. Occhio, ma dato che a Venezia c'è la somma, può andare a Bari. E quindi 10, 90 come ambo primario. Bari, Torino e Venezia. E poi comunque di conseguenza il 10, 37, 73, 90. Bari, Torino e Venezia, tutto è nazionale. Qui abbiamo ancora Palermo. Qua avete le relative posizioni. Quindi, vi ho detto tutto. Quindi, classifica integrale del 90 è questa. E poi, l'ultima questione della quartina. Sviluppatasi con le somme e non solo. Ci sono anche le spie su Torino. Sia per il 10 che per il 90. Quindi, occhio, anche a Venezia. Quindi, Bari, Torino e Venezia. Ho messo la Bari perché il 90 adesso può arrivare a Bari. E non si sa mai con il 10. E non si sa mai con il 37 e il 73. Quindi, queste tre ruote dovrebbero prendere forza. Ci risentiamo. Da Marcus è tutto. E rilascio ancora una volta la classifica integrale del 90. Bari, Torino, Palermo e Venezia. Ancora un buon proseguimento di serata. E poi, domani sera, se ci saranno dei risultati, ci risentiamo. Un abbracione a voi tutti. Da Marcus. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao.